Ciao a tutti, qua è GameStart News Facciamo questo unboxing sul secondo canale World Games Tube Chi non si è ancora iscritto ha pregato di farlo Ben ritornati dalle ferie, innanzitutto partiamo con una sfida di unboxing perché c'è veramente una marea di giochi che deve uscire Abbiamo PES, PES è finalmente arrivato, il primo titolo calcistico del 2013 Sarà, penso, una bella sfida con FIFA perché PES si è migliorato parecchio Sembra che FIFA rimanga ancora un po' meglio Però stiamo a vedere, la demo è piaciuta tanto e le conclusioni finali secondo me bisogna tirarle dopo averli giocati un po' Su cosa punta il nuovo PES? Il PES Full Control Praticamente tiri, passaggi, stop, 1-2 contrasti Ora puoi controllarli in modo completamente manuale Il Pro Active AI, praticamente l'intelligenza artificiale dei compagni di squadra che è migliorata notevolmente Stesso discorso quella dei portieri Il Player ID che praticamente simula diciamo le caratteristiche di ogni singolo giocatore vengono ritrasmesse nel gioco C'è poco da vedere nella confezione Andiamo a vedere dentro un po' C'è qualche sorpresa Oggi linguette Oggi linguette Ho la sindrome di Leo, mi tremono un po' le mani Poverino Anche tutti voi Tra due secondi esatti Qua c'è qualche codice che è meglio non farlo vedere PES League PES League Guarda, guarda, guarda la foto del vincitore Ce la faccio abbastanza da nerdocchio Complimenti a lui Buongiorno a PES League Torno dei campioni Librettino Qui anche i colori Una svolta nella grafica di PES A livello di colori Almeno c'è il libretto Libretto Tutti quelli che non c'è il libretto E adesso vi diciamo il perché di questi colori Ci ricordano qualcosa Perché in omaggio Diamo la spalla ufficiale del gioco Eccola qua Non abbiamo modo di gonfiarla Perché il compressore è in macchina Non riusciamo a mandarci purtroppo Ed è PES 2013 C'è scritto in piccolino Però è proprio questa versione Direi che è un bel gadget È un bel gadget Le trovate su gamestart.it Assieme al gioco ovviamente In omaggio a chi l'acquista Ce ne sono ancora un po' Affrettatevi se siete interessati Niente Come dicevamo prima Sul primo canale Poi Tia si cimenterà In un po' di gameplay Proverà un po' di modalità Farà un po' quel che riesce Sul sito trovate la recensione E cos'altro Un giro di un paio di giorni massimo E poi? E poi basta Pronotatele Pronotate Pronotate E ne ho mai già accusato Di coltelli Per bucare il pallone nuovo Ok Questo è tutto Ciao ragazzi Grazie di tutto Ripensandoci però Potremmo andare a casa In pausa pranzo Tia A gonfiarle Farà anche due tocchi Cosa dici? Non c'è nemmeno un cazzo da fare Non c'è cazzo da fare Non ci sono gli articoli Se ti hanno un cazzo da fare Possiamo andare ragazzi Per cui contro ordine Gonfieremo la palla Per voi E faremo anche qualche passaggio Io non posso andare a casa A giocare Non puoi andare a casa A giocare a perso Prima ti tocca fare due tocchi A dopo E come promesso Il nome in ciabatte Proviamo a gonfiarla Proviamo a gonfiarla Proviamo a gonfiarla Non sei neanche sicuro Che ci riesci? Non lo so Vi dobbiamo vedere Cazzo non mi sembra Molto difficile Ah vi dobbiamo vedere Se tirando su un figlio Riuscirai a gonfiare una palla Sembra le basi Cazzo funziona Ah 3 in 1 La torcia funziona Il trapano funziona Ora la pompetta Ho portato un po' di fumo Se no Non possiamo toccare la palla E allora Sto prendendo forma Sta mutando Ah che bel rumorino Di sottofondo Sì 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 - ci suonano anche i telefoni non so che campioncino vado un po' come una figa però va bene il tuo collezza batte è veramente ammirevole pazzo pazzo ciao a tutti